no ma io non li voglio guardate che spettacolo guardate ed ecco la catena di montaggio delle pizzonde guardate che arte che cura guardate con che cura vengono cotti questi arrosticini margherini ma che ci fai? guardate che cifra guardate che certo guardate il centro guardate che Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani Oh, Moshi Dai, facciamo solo Scemo, fermati No, andiamo Scemo, fermati 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 Scemo, fermati